Presentare il professor Giulio Giorello a Foligno è estremamente facile, anzi sarebbe quasi inutile per la verità, perché per la sua notorietà a livello non soltanto nazionale, indiscutibilmente a livello locale, in quanto è referente del comitato scientifico ed è ormai un cittadino abituale di questa città, almeno sotto l'aspetto del contributo culturale. Quindi io non voglio neanche contrabandare giudizi che non mi competono più di tanto perché non appartengono alla mia sfera per quello che riguarda le sue competenze in ambito filosofico, in ambito scientifico e matematico. Però, ecco, un parere lo voglio esprimere avendolo ascoltato più volte, avendo anche letto i suoi lavori, lui collabora abitualmente con il Corriere della Sera, tra l'altro, sapete. E la qualità che posso permettermi di sottolineare che lo riguarda è la chiarezza, una chiarezza che, tra l'altro, per l'ambito in cui si esprime è decisamente fondamentale. Quindi, siccome tra l'altro questa sera siete venuti ad ascoltare lui e non me, passo senz'altro la parola a lui. Funziona? Funziona? Sì. Care amiche e cari amici, spero che intanto questo funzioni bene. Funziona? Benissimo. Funziona. Sempre meglio controllare. Bene, è un grande piacere per me tornare qui a Foligno, in questa bella festa della scienza e della filosofia, sulla quale poi alla fine vorrei fare una considerazione in chiusura. Ma vorrei subito cominciare a illustrare un po' il tema di questa chiacchierata, che, se non sbaglio, è stata intitolata La libertà della matematica. Il riferimento è letterale a uno dei grandi matematici della seconda metà dell'Ottocento, Georg Cantor, il creatore della teoria degli insiemi transfiniti o infiniti, come altri dice, che intanto ha fatto versare d'inchiostro a logici e matematici e che appunto canto difese in alcuni articoli polemici verso il 1882-1884 e in uno di questi esce fuori con una importante battuta, l'essenza della matematica è la sua libertà. Cosa che a prima vista può sembrare curioso, credo che molti degli studenti delle nostre scuole, le medie, inferiori e superiori, e forse anche dei corsi universitari, abbiano la sensazione che la matematica rifletta coazione e gerarchia, come scrivevano in un loro celebre testo i filosofi Orkheimere e Adorno. E credo che questa sia una sensazione abbastanza giustificata quando si è avuto a che fare con insegnanti di matematica particolarmente sciagurati e oppressivi. Ma se uno prescinde dalle brutte esperienze avute in gioventù, forse può avere della matematica una concezione un po' diversa. La concezione che vorrei questa sera bozzare è debitrice, ci tornerò ad alcune delle idee di Georg Cantor, appunto il grande matematico tedesco creatore della teoria degli insiemi transfiniti, ma è anche debitrice, forse di più ancora, a due grandi figure della cultura britannica, nell'Ottocento il matematico William Clifford e nel Novecento il matematico e fisico Paul Adrian Maurice Dirac. E su queste due figure che cercherei di soffermarmi perché sono due figure che in modi diversi dalla libertà della matematica hanno tratto alcune conseguenze che io chiamerei pertinenti anche alla filosofia e alla stessa vita civile. Intanto vorrei dire che, benché le tendenze rigoristiche e iperformali della prima metà del Novecento, quelle che si esprimono nel logicismo di Russell e di Whitehead, per certi versi, e nel formalismo di David Hilbert per altri, queste concorrenti che sono state un po' la base del grande dibattito sui fondamenti della matematica, hanno messo in ombra una concezione della pratica matematica diversa come costruzione di una specie di disciplina quasi empirica, come diceva il filosofo e matematico Imre Lakatos. Ma questa concezione quasi empirica della matematica ha un precedente illustre in uno dei più grandi filosofi dell'Ottocento, John Stuart Mill, nel suo System of Logic del 1843. Permettetevi di citare un punto. I fondamenti della geometria risiedono soltanto nell'esperienza diretta, anche se gli esperimenti, che in tal caso consistono soltanto di un'attenta riflessione, riflessione venissero eseguiti solo su ciò che chiamiamo le nostre idee, cioè sui diagrammi nella nostra mente e non necessariamente su oggetti esterni. Questa posizione di John Stuart Mill, che è stata estremamente influente, viene ripresa un po' di tempo dopo, diciamo all'inizio degli anni settanta dell'Ottocento, dal matematico William Clifford, il quale riprende esplicitamente nei suoi scritti questo passo importantissimo del System of Logic di Mill, ma va avanti di più, insomma, spinge ancora di più questo modo di vedere. Perché l'esperienza a cui ha in mente Clifford non è soltanto l'esperienza del singolo soggetto conoscente, come talvolta si ha l'impressione che si possa trarre da Mill, ma indica invece quello che il mio amico Edoardo Boncinelli chiama il collettivo umano, cioè la capacità degli individui di interagire tra di loro mediante il linguaggio e costruire una sorta di conoscenza capace di evolvere nel tempo. Un'idea particolarmente, come dire, sottolineata da Herbert Spencer, il quale innestava quella che noi oggi chiamiamo evoluzione della cultura sul tronco robusto dell'evoluzione per selezione naturale sviluppata dal grandissimo Charles Darwin. È in questo contesto che si situa il discorso, e può sembrare curioso, della libertà del matematico. Se uno pensa che la matematica rappresenti, appunto, coazione e gerarchia e che sia piuttosto un'espressione di una necessità logica più che di una libera scelta del matematico creatore. Ma bisogna dire che il grande Clifford viveva in un'epoca nel Gran Bretagna in cui si stava profilando una grande rivoluzione intellettuale e questa veniva, come dire, sviluppata secondo due importanti direttive. Una direttiva, non c'è bisogno che la ricordi qui, ma visto che ho parlato di evoluzione prima mi limito a qualche accenno, era quella sviluppata da Charles Darwin e soprattutto dal suo mastino Thomas Huxley e riguardava, attraverso la disamina dell'evoluzione per selezione naturale l'idea che non c'è più posto nella considerazione degli fenomeni naturali di qualche dubbia forma di finalismo. Naturalmente Darwin dava sostanza scientifica con questa sua considerazione una serie di intuizioni che ci vengono dal meglio di quello che io chiamo l'illuminismo radicale, in particolare da due figure che avevano liquidato qualsiasi concezione providenzialistica, il razionalista Baruch Spinoza nella sua etica e il grande filosofo scozzese David Hume, in particolare nei suoi dialoghi sulla religione naturale. Era il primo colpo, in un qualche senso, all'idea che l'evoluzione fosse diretta a un qualche fine che ci fosse una sorta di profilo o piano o proposito intelligente, di intelligent design punto che Darwin aveva vigorosamente contestato in più di un suo scritto e di cui troviamo grandi evidenze nella sua splendide notte autobiografiche. Era un modo diverso di ripensare il posto dell'uomo della natura. Ma la linea che invece seguiva una figura come Clifford era un'altra, cioè non solo, o meglio, era una seconda non solo c'era questo recupero della dimensione contingente degli eventi che hanno portato alla comparsa di Homo Sapiens su questa terra, in forte consonanza con le idee di Darwin e di Huxley ma c'era qualcosa anche di più. C'era l'impossibilità di riscontrare nei fatti quella che era considerata una delle maggiori evidenze della teologia naturale e cioè la presenza di un ordine cosmico espresso in maniera perfetta e coerente da leggi di natura valide in tutto l'universo. Questa era una delle questioni che proprio John Stuart Mill aveva messo in dubbio in alcune poderose pagine del System of Logic dedicate alla validità dell'argomento induttivo. La validità dell'argomento induttivo è una validità pragmatica, il ragionamento per induzione cioè di estrapolazione da quello che noi sperimentiamo al futuro. È un qualche cosa che ci serve come guida nella vita, oltre che nella teorizzazione scientifica ma non siamo mai sicuri che questa estrapolazione possa reggere ad indagini più approfondite. Una posizione questa di Mill che poi sarà ripresa nel 1912 con grande vigore da Bertrand Rasse nei suoi problemi della filosofia. Ma la cosa interessante a cui insisteva Clifford era che questo, proprio in perfetta sintonia con Mill, valeva persino della geometria, cioè valeva persino della geometria intesa come teoria dello spazio non solo immaginario ma fisico. E aveva ben donde Clifford per accettare questo tipo di posizione visto che era stato l'autorevole traduttore in Gran Bretagna, 1870, della memorabile dissertazione con cui Bernard Riemann aveva aperto lo studio delle cosiddette geometrie non euclide. Non c'è soltanto una geometria che è quella che abbiamo ricevuto da Euclide, ci sono geometrie alternative, lo avevano fatto già vedere Gauss, Bogliai e Lobaceschi, ma una teoria generale di questa impostazione era stata sviluppata da Riemann nel suo discorso dell'abilitazione del 1854 ed era stata poi diffusa nella cultura europea quando dieci anni dopo la dissertazione di Riemann era stata pubblicata. La traduzione di Clifford è estremamente tempestiva e importante. Nel 1873, scusate, nel 1870, poi il testo viene ripreso nel 76, Clifford trae le conseguenze filosofiche di questa, possiamo dire, relatività della geometria. Non abbiamo nessuna certezza che in regioni molto lontane dello spazio valgano, o per grandezze molto ampie, tipo distanze stellari, valgano gli equivalenti dei principi di Euclide. Ma esiste la possibilità di una geometria diversa, che la mente umana riesce a immaginare. Mancano le prove a favore dell'uno o dell'altra geometria, ma questo è la campana morto, come diceva Clifford stesso, per l'idea di un soggetto trascendentale di tipo kantiano, il quale le si basa su un'unica geometria, come nella vulgata con cui abitualmente viene presentata la concezione kantiana della conoscenza geometrica. Clifford, sotto questo profilo, giocava anche molto abilmente sull'uso di un termine, trascendental, che indica in inglese tanto il trascendentale di Kant quanto l'argomento trascendente. Se non c'è un ordine univoco che regola il mondo, non c'è neanche un regolatore. E quindi la relatività delle geometrie, che appunto poi doveva così impressionare nel Novecento degli grandi matematico fisici come Herman Weill, un grandissimo fisico come Einstein, ecco, questo tipo di impostazione suonava come appunto abbandono di qualsiasi fondamento trascendentale. I fondamenti non ci sono, o meglio, i fondamenti possono essere suggeriti soltanto dalla nasi empirica. Cambiando i dati sperimentali, i fondamenti ti vanno necessariamente rivisti. E la sola possibilità che questo avvenga garantisce da una parte una scienza non dogmatica, che non riflette coazione e gerarchia, e dall'altra parte invece garantisce una scienza capace di progredire verso orizzonti nuovi e sorprendenti. La rivoluzione delle geometrie non euclidee, quelle tanto per intenderci in cui, come voi sapete, non è vero l'assioma euclideo, un suo equivalente per cui la somma degli angoli interni di un triangolo è esattamente uguale a due retti. E questo tipo di impostazione, che forse noi conosciamo meglio sul continente europeo, dalla grande discussione aperta da un genio magistrale come Henri Poincaré, però veniva già discussa nelle considerazioni delle geometri britannici, proprio grazie all'importanza dei lavori di questo grande matematico, Clifford, formatosi a Cambridge e poi venuto a Londra, animatore di una serie di importanti dibattiti che andavano volutamente al di là dello specifico della riflessione strettamente matematica per investire alcuni grandi temi culturali che erano al centro del dibattito dei cosiddetti vittoriani britannici. Claudio Bartocci, che mi fa l'onore di essere qui presente, ha fortemente magistralmente analizzato tutto questo in parecchie dei suoi lavori e in una, peraltro, deliziosa presentazione di Flatlandia, di Abbott, che è uno dei testi chiave per capire bene il tempo culturale, l'atmosfera mentale che si svolge in quei contesti. Dicevo, fu proprio Clifford a usare una locuzione molto interessante per le geometrie non euclidee. Il fatto che ci sia una geometria non euclidee ha distrutto il dominio di euclide nella tradizione geometrica, anzi, si è verificata nella geometria un'autentica rivoluzione scientifica, il termine revolution è di Clifford, che è paragonabile in matematica alla grande rivoluzione copernicana. Robaceschi, Bogliai, o se preferite Riemann stesso, può impersonare il ruolo del copernico in geometria. Questo parallelo con le rivoluzioni copernicane erano abbastanza diffuse nella cultura britannica. Darwin disse stesso, io sono il copernico delle scienze del vivente, poi aggiungeva, non vorrei finire però come Giordano Bruno Galileo, cioè di fronte a qualche tribunale ecclesiastico. Darwin era molto prudente, come voi ben sapete. Clifford era un po' più, come dire, estroverso e deciso, appunto, Lobaceschi o Riemann sono il copernico della rivoluzione in matematica. D'altra parte, noi oggi siamo abituati, non a caso è appena concluso il cinquantenario del bel libro di Thomas Kuhn sulle rivoluzioni scientifiche, siamo abituati ormai a parlare di rivoluzioni scientifiche. Come dicevo, un termine che si era già consolidato ai tempi di Kant, quando Immanuel Kant parlava della sua rivoluzione copernicana, che per esempio tra i primi ha usato il termine rivoluzione per la matematica, è stato per esempio Lazar Carnot, a proposito della nascita del calco infinitesimale con Newton e con Leibniz, e se c'era uno che di rivoluzioni se ne intendeva anche politiche, era appunto Carnot, grande generale della rivoluzione francese, famoso anche per aver schiacciato nel sangue la ribellione della Vandea. Non piacerebbe ai reni pivetti, vabbè, questa è una cosa francamente marginale. Dunque, perché facevo questo riferimento? Perché tra l'altro, mentre oggi il termine rivoluzione scientifica è, dopo Thomas Kuhn, particolarmente discusso nel contesto di storici e di filosofi della scienza, qualcuno nega che in matematica ci siano delle vere e proprie rivoluzioni. Le rivoluzioni ci sono laddove muore qualcosa, la termodinamica moderna distrugge il calorico, la relatività di Einstein fa pezzi lettere, e via discorrendo. Quindi le rivoluzioni sono non cambiamenti tranquilli, evolutivi, ma sono qualcosa di un po' più violento, un po' forse come l'evoluzione dal punto di vista di Stephen J. Goode, comportano la distruzione di qualche cosa. E cosa è mai stato distrutto nel caso di geometria dell'Euclide? Uno potrebbe dire nulla, perché le geometrie dell'Euclide si sono affiancate alla geometria dell'Euclide, la coerenza dell'una rimanda alla coerenza dell'altra, e quindi non c'è stata una vera e propria rivoluzione, una tesi che oggi molti storici della matematica sostengono. Credo che il mio amico Umberto Bottazzini abbia una certa simpatia per questo tipo di posizione, che è stata sostenuta tra non pochi storici della geometria nell'Ottocento. Io però vorrei dire che almeno degli occhi di Clifford, agli occhi di Clifford una vittima che ci aveva lasciato il testone, come nelle rivoluzioni politiche, nel caso della geometria dell'Euclide, come le vede Clifford, c'è stato. E vediamo a vedere chi è la vittima di questa rivoluzione. Nella rivoluzione di Cranwell, come voi sapete, Carlo I ci aveva lasciato letteralmente il capo. Chi lascia invece il testone nella rivoluzione delle geometrie dell'Euclide è, guarda caso, agli occhi di Clifford, in alcuni articoli scritti poco prima della morte, Clifford muore giovanissimo a 34 anni, è niente di meno che Dio. Se non c'è un ordine univoco dell'universo, non c'è nemmeno l'ordinatore. La battuta di Clifford è straordinaria. Vi do una grande notizia, due punti. Il grande compagno è morto. Sembra Nietzsche, ma è un po' prima di Federico Nietzsche. E questo è una cosa che si deve far riflettere, cioè l'uso che viene fatto della relatività del nostro modo di strutturare il mondo come un elemento che ci libera definitivamente dall'obbedienza a un grande signore, al grande compagno, al grande fratello, a Dio, come diavolo, al fondamento con la F maiuscola, come vogliamo dirlo. Su questo Clifford era molto chiaro, al punto di farsi dare dell'ateo impenitente e blasfemo da alcuni dei suoi contemporanei e da non essere seguito nemmeno da tipi, per altri versi radicali come Axley o Darwin, i quali preferivano definirsi non atei, ma diagnostici. Quindi una curiosa lettura della matematica come via regia per arrivare a un ateismo visto non tanto scioccamento ingenuamente come la dimostrazione che Dio non c'è, quanto come il fatto che la dimostrazione che Dio ci sia è un'onere della prova lasciato a coloro che ci credono. Ma tutti gli altri che normalmente si comportano a persone razionali, per Clifford dire credere una cosa soltanto buone evidenze per queste, appunto non sono tenuti a seguire. Quindi ha una funzione fortemente anti-autoritaria e emancipatoria ed è la libertà in questo senso del matematico la quale è premessa di una libertà intellettuale e civile, di una freedom of philosophy, cioè di una libertà della filosofia. Queste posizioni sono estremamente, come dicevo, significative in un contesto molto asciarnè, come era quello dei dibattiti dei vittoriani britannici, ma hanno poi, e qui è inutile stare a ricostruire in questa sede tutte le fonti testuali, è inutile seguirne tutti gli echi anche sul continente europeo. Anche almeno un'operetta di Clifford è stata tradotta in italiano, ed epoca, in quel periodo che in Italia si dice di cattiva cultura positivista, dove però la gente seria traduceva Darwin in tempi molto rapidi e quindi permetteva al nostro stesso paese uno svecchiamento culturale molto importante. Quello che io volevo sottolineare era l'aspetto però appunto di libertà del matematico, cioè la possibilità di optare tra diverse fonti di geometria. Ma questo discorso, per chi poi va a vedere per esempio la pratica di alcuni grandi matematici dell'Ottocento non si limita al caso delle geometrie non euclidee, che sono rivoluzioni in questo senso teologico molto particolare. Attenzione. Clifford è uno che era stato entusiasmato dalle considerazioni dell'irlandese William Rowan Hamilton sopra i cosiddetti quaternioni che aveva introdotto sostanzialmente quello che oggi noi chiamiamo l'idea di un'algebra non commutativa. I contributi di questo tipo di matematica alla fisica matematica successiva sono molto importanti, ma a me interessava sottolineare che appunto dove c'è rivoluzione in matematica c'è libertà del matematico e c'è libertà del matematico uno può anche appunto andare al di là del confine, dell'orizzonte delle conoscenze stabilite e procedere in maniera più libera e creativamente, intellettualmente meno soggiogata e quindi una grande lezione di indipendenza intellettuale. La seconda lezione che volevo trattare qui si riallaccia per molti versi all'insegnamento di Clifford, ma non solo ed è quella di uno dei più grandi fisici e matematici del Novecento Paul Adrian Maurice Dirac. Dirac ha non pochi elementi in comune con i matematici di cui ho parlato fin qui. Per esempio anche lui è un free thinker, un libero pensatore e anche lui convinto che non abbia più senso parlare del grande compagno o del signore dell'universo. Le sue simpatie vanno a delle forme molto curiosi di materialismo dialettico riletto all'inglese. Questo è anche dovuto al suo rapporto molto stretto con il russo Pyotr Kapisa. E poi ci sono tutta una serie di considerazioni che portano straordinariamente negli anni 30 di Iraq a sottolineare in un passo molto bello che citava con grande piacere il mio amico Enrico Bellone ogni volta che c'è una grande svolta nel campo della fisica e si riesce a matematizzare il campo in questione allora la stessa matematica non è una banale estensione di quella precedente ma è un ripensamento totalmente radicale dei principi che abbiamo ricevuto. Dirac doveva dare degli esempi molto seri e molto interessanti di questi casi in particolare proprio quando insiste uno tra i primi sulla rilevanza della non commutatività delle matrici in relazione con le ricerche di meccanica quantistica di Heisenberg e anche in altri contesti. E' stato però soltanto un po' dopo questi anni creativi della meccanica quantistica inclusivamente nel 1939 che in un testo intitolato The Relation Between Mathematics and Physics Dirac sosteneva che c'è qualcosa nell'universo che si chiama The Mathematical Quality la qualità matematica che è molto interessante già come espressione perché normalmente noi quando parliamo di numeri o figure pensiamo a rapporti quantitativi mentre qui Dirac sottolinea che c'è un elemento qualitativo nel successo della matematica nello spiegare come è fatto il mondo era un tema che appassionava anche quello che poi diventerà suo cognato cioè Eugen Wigner no? Eugen Wigner ma comunque per Dirac nel 1939 anche se non capiamo esattamente perché la matematica funzioni così bene per descrivere il mondo la descrizione della matematica che il mondo fa è una descrizione efficace e progressiva perché appunto il matematico curiosamente è molto più libero del fisico sperimentale di nuovo ritorno a questa tematica quindi della libertà di chi fa matematica più precisamente in quell'articolo del 1939 Dirac vede un primo grande esempio nella meccanica di Galileo Newton che ha avuto l'audace idea di concepire l'intero universo per quanto complicato fosse in una sorta di sistema ma dinamico anche se molto difficile da trattare in un secondo tempo la semplicità newtoniana aveva trovato le sue difficoltà è facile trattare un problema di due corpi molto meno trattarne già uno con tre corpi nella dinamica di tipo poco classico e quindi la semplicità non è la guida sicura per il matematico ma le cose erano fortemente cambiate con le due grandi rivoluzioni scientifiche in fisica aperte da Albert Heist nel 1905 Heist è stato uno dei grandi modelli dei grandi punti di riferimento di Dirac e qui proprio nel riflettere su quello che lui chiamava il grande miracolo intellettuale della relatività ristretta cioè quindi 1905 si capiva diceva Dirac che era la bellezza matematica la prete in mathematics la matematica bella fine raffinata che permette di andare avanti nella stessa crescita della conoscenza quindi la matematica non è una serva della ricerca fisica o se lo è una serva padrona per usare la bella battuta di Umberto Bottazzini e di Edoardo Boncinelli e questo Dirac diceva si capisce quando noi andiamo a vedere come nella impostazione classica diciamo per semplificazione Galileo Newton il gruppo delle trasformazioni galileiane non sia altro che una contrazione un aspetto degenere come dicono tecnicamente i matematici di un gruppo più significativo e importante come il gruppo noto come trasformazione di Lorenz Poincaré questo elemento faceva così per Dirac proprio un caso in cui la rivoluzione relativistica cambiava il senso della stessa pratica matematica e da pratica matematica un respiro molto maggiore era poi facile a Dirac aggiungere 1915 cioè 1916 cioè il caso della relatività generale e sottolineare quella che poi è diventata un'idea guida di Sir Roger Penrose quando ci dice che il mondo matematico dell'idea è più grande in un qualche senso del mondo fisico e noi per capire meglio il mondo fisico cerchiamo bene nel contesto della matematica cosa scegliere per dare un ordine ai fenomeni e appunto come diceva Milton la ragione non è altro che scelta reason is choice ma vorrei appunto dopo che ho fatto come dire con grande mia partecipazione personale come avrete sentito una apologia di Clifford e di Dirac free thinkers liberi pensatori atei militanti molto più radicali degli agnostici tipo Darwin o Axley quando appunto tutte e due affascinati da John Stuart Mill perché anche Dirac sosteneva che l'unica filosofia con cui valesse la pena di fare i conti era quella di Mill proprio perché poneva bene in chiaro il problema della difficoltà di arrivare a delle leggi di natura e di riconoscere se queste leggi sono davvero universali o siano soltanto validi in un campo ristretto Dirac sottolineerà che valgono in un campo ristretto e questo in particolare in un importante convegno un intervento scusate tenuto in Italia a Varenna alla scuola Enrico Fermi nel 1976 se ben mi ricordo bene appunto questo tipo di impostazione lega Clifford e Dirac nella loro come dire anche in sofferenza verso il problema del fondamento con la F maiusc vogliate o no dargli un connotato teologico o meno ma per farmi forse perdonare questo elogio di due ateisti militanti come Clifford e Dirac permettetevi di leggermi due righe di un intervento di Paul Dirac in un luogo molto strano prima vista per lui e cioè l'Accademia Pontificia delle Scienze nel 1978 poi uscito nel 79 per l'editrone nel libreria editrice vaticana quindi più di così si muore ecco e qui vediamo l'altra faccia della lettura che Dirac fa della matematica della relatività ristretta in Einstein abbiamo visto prima la valutazione interna nel confronto tra il gruppo di Poincaré Lorenz e il gruppo di Galileo Newton ma qui è interessante la valutazione esterna cioè proiettata sul mondo fisico la relatività ristretta ha condotto a una lunga linea di sviluppi ha condotto al concetto di energia di massa riposo e uguale a mc quadro di più ha condotto questo è molto importante a una radice quadrata nella formula per l'energia di un corpo in moto cosicché matematicamente dal punto di vista del mondo delle idee e dei puri diagrammi mentali l'energia potrebbe essere anche negativa all'inizio ciò non ebbe importanza veniva considerato una bizzarria e si sarebbe solo potuto dire che fisicamente stati di energia negativa non si verificano ma la matematica aveva anticipato la fisica con l'avvento della trio dei quanti si ebbe la possibilità della transizione di una particella da uno stato di energia positiva a uno stato di energia negativa ciò costrinse a cercare un significato per l'energia negativa e questo ci ha portato all'idea di antimateria che dunque una conseguenza diretta non solo della fisica quantistica ma anche della relatività ristretta di Einstein questo è il modo con cui Dirac ricostruisce l'emergenza della teoria dell'antimateria una delle teorie più straordinarie della fisica del novecento come guidata da scandita e programmata dalla stessa forza della costruzione matematica poco c'è da aggiungere sul fatto che Dirac è stato il protagonista della ricerca dell'antimateria e chi avrà la bontà per esempio di leggere questa bella biografia di Gran Farmelo l'uomo più strano del mondo troverà l'avventura intellettuale di Dirac in due grandi ricerche una quella delle evidenze empiriche per la antimateria grande epopea anche della fisica sperimentale Dirac non ha mai negato che poi lo sperimentale deve intervenire a trovare l'evidenza empirica della bellezza matematica ma nello stesso tempo poi anche la storia di questo libro di Farmelo di un'altra ricerca che Dirac ha fatto quella della bellezza femminile da uomo che tutti presentavano sui giornali lì dell'epoca quando ha vinto il premio Nobel come uno insensibile al fascino delle donne ha pazzamente innamorato della sua Nancy che come voi sapete è stata la sorella di Eugen Wigner quindi è una bellissima storia questa se no non giustificherebbe la massa vero di pagine che è eccessiva però di una storia che non è soltanto una meravigliosa storia dell'intelligenza ma è anche una storia umana di una bellezza di una drammaticità impressionale però questo era il punto a cui io volevo quindi arrivare e cioè questa capacità della matematica di proiettarsi in avanti di poter indicare le strade alla ricerca fisica di essere un'euristica come è stato detto da Imre Lakatos in alcuni suoi interventi sul carattere quasi empirico della matematica e quindi sotto questo profilo aveva ragione Georg Cantor quando parlava che l'essenza della matematica è la sua libertà e curiosamente si rifaceva un autore che è anche uno dei grandi punti di riferimento di Clifford e di Einstein dopo di lui questo autore si chiama Benedetto Spinoza il quale sostiene che la nostra esperienza della libertà è nell'essere causa adeguata delle catene medie e eventi in cui noi siamo coinvolti la matematica è un esempio di libertà in questa prospettiva il resto è semplicemente sofisticheria e inganno come diceva il buon vecchio Jung ecco e con questo vi ringrazio dell'attenzione applausi grazie non sono stato smentito da questo intervento che definire lezio magistralis credo che sia assolutamente riduttivo ma nessuno di voi ha pensato venire qui a farsi una doccia invece ha trovato un torrente in piena bene abbiamo ascoltato anche se parlo per me naturalmente con grandi limiti di conoscenza ma questa passione che lo ha trascinato coinvolge anche noi perché poi sentir pronunciare la parola libertà e affiancarla al termine matematica quindi una libertà che si configura come solida e certa come strumento di conoscenza e di comunicazione delle cose e del mondo e dei pensieri beh è decisamente affascinante bene il professor Giorello è disponibile a rispondere ad eventuali domande da parte del pubblico ecco qua prego non so se c'è un microfono che circola probabilmente magari girato di là molto breve dopo Gerdel di competenza della matematica un matematico è più libero o meno libero magari raccogliamo più domande in maniera ecco magari per far raccogliere le idee e coprire questo vuoto se vuoi rispondere fin d'ora beh allora rispondo subito allora come lei sa meglio di me interpretare il senso profondo del teorema di Gerdel è piuttosto è piuttosto difficile suppongo che lei alludesse al cosetto teorema di incompletezza di Gerdel però va bene anche ricordare che tra le altre cose dimostrate questo grandissimo logico e matematico c'è una profonda come dire biforcazione nei formalismi della teoria degli insiemi la teoria del trasfitto di canto perché Gerdel ha dimostrato anche la coerenza della ipotesi della scelta della ipotesi generalizzata del continuo con la teoria standard salvo che poi un suo diciamo così insensolato allievo Paul Joseph Cohen ha dimostrato l'indipendenza e quindi uno potrebbe dire che bello quante teorie matematiche proliferano nei fondamenti altro che le geometrie non euclidea ancora peggio questo è stato un punto di grande discussione anche molto violenta tra il matematico Abraham Robinson e il logico Georg Kreisel sono vecchie cose che lei mi fa ricordare di quando ero studente di logica a Milano e però questo dimostra che nel senso che ho detto io l'aspetto quasi empirico rivoluzionario e tra virgolette mettiamo con tra mille le virgolette libertario della pratica matematica è aumentato almeno sono in questa diciamo sensazione di superficie a fior di pelle devo dire in buona compagnia uno è Lord Bernhard Russell il quale dopo il risultato di Gödel lasciò perdere le sue idee di rigida fondazione logicista quelle che ha perseguito con White nella stesua dei principi a matematica e che si ritornò una sorta di maggior libertà nei fondamenti come è espresso nel libro La conoscenza umana che è degli anni 40 del secolo scorso e l'altro che mi sembra vada molto in questa direzione sia appunto il già citato Roger Penrose in particolare in un delizioso libretto che sono contento che l'ho fatto io nella mia collana insieme a questo che è sentito Il grande e il piccolo e la mente umana no grande grande bel testo anche se piccolino ecco ecco quindi questa è un po' la mia risposta bene io spero che questo abbia dato spunto a qualche altra curiosità anche potrebbe dar spunto all'avvicinarsi del pub visto che il Mingarelli l'auto Mingarelli ci ha gentilmente promesso una bevuta l'auto è abbondante alla fine di questa spero non a tutti lo rovineremo spero per lui voglio dire a me e ad alcuni dei miei complici via facile trovare complici nella bevuta non so se ci sia grande compatibilità tra questo pubblico e i pub forse no questo inclito pubblico qualche bella mescita a Foligno il grecchetto locale è molto migliorato in questi ultimi anni si si ma qui c'è un innalzamento della qualità del vino decisamente diffuso prego sembra che questa sera non sia disponibile questa matematica libera come supererà in futuro la barriera della della teoria del caos dei sistemi complessi eccolo qua è arrivato il microfono eccolo è arrivato il microfono non ho capito la domanda io l'ho capita domanda sono sorno ma l'ho capita mettiamo in condizione di capire anche quelli che non l'hanno sentita ecco magari come farà in futuro questa matematica libera superare la barriera della teoria del caos della sensibilità alle condizioni iniziali dell'aumento esponenziale del rumore nel corso del tempo e dei sistemi complessi insomma la realtà è un sistema complesso una domanda che mi richiede un'altra conferenza che vuol dire che il mio pub scompare all'orizzonte volevo rompere il piano comunque mi libero a ricordare solo due cose la teoria del caos che oggi è di grande moda di grande riferimento giustamente riflette fenomeni matematici constatati empiricamente nella pratica matematica ai tempi di Pierre Duhem e di Henri Poincaré e in particolare dal grandissimo matematico Jacques Adamaire che è stato uno dei primi che ha fatto vedere il caso di equazioni sensibili fortemente sensibili alle condizioni iniziali poi dopo la tematica dal punto di vista filosofico è stata ripresa mirabilmente da Henri Poincaré in alcuni dei suoi articoli cosiddetti divulgativi questi testi sono stati pubblicati in italiano in una eccellente formulazione critica molto seria proprio da Claudio Bartocci qui presente voglio anche che insistere sul fatto che lettera pristem viene appena da dedicare un volume fondamentale sull'opera di Poincaré e quindi si inserisce bene in questa tematica di cui stavo parlando cioè non mi sembra un controesempio a una matematica libera nel senso che ho detto cioè nel senso di Cantor insomma anche se poi Poincaré non la pensava come Cantor per quanto riguarda i fondamenti della matematica in particolare la fondazione dell'aritmetica sulla teoria degli insiemi quindi mi sembra un argomento molto significativo quello che è stato uno dei più grandi teorici dei sistemi complessi o meglio dello studio di beforcazione in sistemi dinamici dotati di una certa complessità alludo ovviamente a Fitzmeda René Tom nella matematica era proprio uno che ha dato una delle più belle definizioni di questo tipo di situazione la matematica comincia in modo libero e poi si vincola poco a poco con le posizioni di che vengono fatte credo che la tesi di Tom che tra l'altro proprio si è forgiato su questi problemi di cui lei faceva riferimento sia una tesi che oggi valga la pena di riprendere in forte considerazione è straordinario tra l'altro lo notavo quando ho seguito un po' l'editing di questo libro su Dirac come molte delle grandi intuizioni di Dirac sulla bellezza della matematica trovino in un corrispettivo nell'idea di Tom che la matematica rende veramente intellegibile la molteplicità dei fenomeni fisici fisici in senso lato mi ricordo quello che quando ero studente mi appariva come un paradosso la frase che ha appena pronunciato il professore non ricordo la fonte ma quanta poesia in una pagina di logaritmi ed effettivamente il ragionamento si sarebbe trovato in buona compagnia con il grande Paul Valéry grande interlocutore grande amico di Jacques Adamara al grande convegno dell'esposizione universale di Parisi dell'inizio degli anni trenta posso? posso? sono qui prego prego volevo chiederle lei prima ha parlato di insegnanti sciagurati come si rivolgerebbe a un bambino delle scuole elementari per proporgli per fargli per presentargli la matematica beh quando un bambino si trova o anche un giovinetto come si diceva una volta si trova di fronte a degli insegnanti sciagurati di matematica ma anche di altre materie anche di altre materie quelli che sarebbero capaci non solo di rendere noiosi i promessi sposi che lì c'è già uno sforzo di manzoni di suo ma renderebbero noioso persino Tex Wheeler o Topolino quando secondo me la cosa migliore è l'insegnamento della meccanica razionale in particolare di quella la fase meccanica razionale che è la balistica tenendo presente che voi qui in Umbria avete una grande tradizione di balestra la balestra se usata opportunamente mette a posto l'insegnante autoritario noioso ed oppressivo grazie a tutti grazie a tutti ma guardi io sulla storia dell'opinione non l'ho mai capita bene questa matematica non è un'opinione la matematica è un'opinione con delle buone evidenze e a noi piacciono tutte le opinioni che hanno delle evidenze interessanti sostenute da persone che sono capaci di esprimere queste evidenze vecchio criterio appunto che Clifford usava la dico per distinguere le persone serie da quelle che Huxley chiamava i serpenti cioè i coloro che sono l'equivalente i vecchi teologi i retori eccetera che sono l'equivalente diceva Huxley dei serpenti che il giovane Ercole dalla culla viene fuori e rompe così quindi l'evidenza è sotto evidenze sono di prova naturalmente di quello che gli avvocati chiamano prova che io posso chiamare evidenza nella buona traduzione che il mio grande maestro Mario Dal Pra ha fatto dei testi di David Hume le evidenze sono le cose che ci distinguono da coloro che invece affermano delle opinioni e le impongono semplicemente pestando i puni sul tavolo o mandando rogo quelli con cui non si è d'accordo eccetera eccetera o mandando in ospedale psichiatrico o contro un muro come è successo nella Russia di Stani eccetera eccetera questa è la risposta un'altra domanda per concludere con un'immagine più felice magari prego ecco arriva il microfono professore possiamo concludere dicendo che la libertà del matematico è la nostra libertà vuole sottintendere questo sì voglio proprio sottintendere che la libertà del matematico è la nostra libertà lo sapeva benissimo Galileo Galilei in la sua coppia mi faceva vedere una volta Enrico Bellone che nella sua coppia che è conservata a Padova del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo quando Galileo che si definiva filosofo e matematico prima della Serenissima e poi Ducca di Toscana capisce che tira aria brutta e che prima o poi lo processeranno per le tesi che ha sostenuto Galileo dice ma io ho semplicemente usato la mia libertà appunto di fare speculazione matematica avrò anche sbagliato però quando il braccio secolare interviene contro le opinioni sbagliate che invece si dovrebbero combattere con la critica con la critica facendo vedere dove uno sbaglia o quando si interviene così si comincia a mettere in pericolo la libertà di una repubblica le basi di una repubblica vengono squassate una nota molto breve di Galileo Galilei ed è quella con cui uno dei nostri grandi maestri Giorgio de Santillana il grande storico del pensiero scientifico iniziava nel 1960 la versione italiana del suo processo Galileo Galilei che è uno dei più bei libri sull'argomento che siano stati scritti professore non vorrei ritardarle di nuovo la bevuta al pub ma una cosa molto così spontanea matematica e libertà cantori trasfiniti il suo problema fondamentale matematica e trascendente lei non l'ha toccato e quindi no non l'ho toccato è vero non l'ho toccato perché volevo chiudere in 45 minuti e non gasare l'uditorio con l'unitorio prima cosa seconda cosa che ho preferito prendere esempi di teorizzazioni matematiche che hanno un rapporto molto forte con la geometria con l'analisi con l'algebra cioè con i grandi tronchi della conoscenza matematica piuttosto che una regione che alcuni matematici ancora adesso considerano esotica come la teoria degli insiemi quando diventa teoria del transfinito non come linguaggio per prefazione di un qualunque manuale ecco per questo ho preferito addentrarmi di più nella pratica matematica che nella logica vera e propria Cantor aveva un problema con la trascendenza come mostrano le lettere al cardinale di Santa Romana Chiesa Franzelin in cui Cantor tutto contento quando scopre che c'è l'antinomia del massimo cardinale che quindi non si può dare una considerazione del tutto diceva vedete che i miei insiemi non fanno concorrenza i miei insiemi infiniti non fanno concorrenza all'infinito per antonomasia cioè quello della ditta di Roma insomma ecco la ditta di Roma tutto contento di sta cosa qua ma vabbè poi Cantor avevo io anche un'altra cosa che non per cui non ho parlato di Cantor qui nei dettagli che esistono un mucchio di bei lavori su argomento tra l'altro dei bei ricerche fatte da un mio carissimo ex compagno di università che è Gianni Rigamonti che attualmente è all'università di Palermo che ha fatto un'edizione dei testi cantoriani sul transfinito che tocca molto bene e con grande competenza questi problemi quindi un'altra ragione l'ultima ragione è che se uno vuole divertirsi a vedere le per i pezzi intellettuali di Cantor e anche che poi a un certo punto ha dato di testa ha cominciato da zuccate nelle pareti per fortuna l'hanno messo in posti dove le pareti sono imbottite e uno non si può far male dovrebbe andarsi a rileggere e se ce la fa anche a rivedere se trova una traccia cinematografica quella cosa splendida che è stato Infinitis di John Barrow e di Luca Ronconi che fu dato qualche anno fa al piccolo teatro della città di Milano dove le motivazioni della pazzia di canto di fronte ai paradossi dell'infinito esplodono proprio scenicamente nella grande capacità che ha Luca di rappresentare questo tipo di situazioni piccola notazione marginale e mi farebbe subito il mio amico Umberto Eco è che in realtà una delle ragioni della folia di canto fosse stata quella che non riusciva più di stricarsi nel puzzle se Bacone fosse davvero l'autore delle opere di Shakespeare ecco ha fatto versare non so quanto inchiostro ecco sull'argomento quindi vede che la storia della scienza è sempre più ricca di come la fanno talvolta in Italia certi storici della scienza non so se non tocchiamo questo grosso argomento va bene a questo punto credo che non ci resti che ringraziare il professore e augurare a tutti senza voler fare imitazioni in debite buonasera grazie a voi grazie a voi grazie a voi Grazie.